A suo servizio ancora al centro del dibattito al comune di Avellino, questa mattina nuova conferenza stampa dell'opposizione che ha rimarcato il significato di una battaglia di equità per i cittadini. Per Giancarlo Giordano la maggioranza è in stato di confusione, secondo il capo gruppo di Neopreziosi l'amministrazione allo sbando. Questa è una vittoria della città, dei cittadini. Il problema è che più che il mandato il contratto deve essere risolto e contemporaneamente devono essere annullate immediatamente quelle che sono le cartelle già emesse con diffida di non emetterne altre. I problemi si risolvono politicamente in comune perché la cosa più intelligente da fare quando c'è uno sbaglio è ammetterlo, riconoscerlo e porre un rimedio. Ma se nemmeno rispetto a questo si capisce allora veramente non sappiamo più cosa fare. L'affidamento illegittimo del servizio di accertamento e la doverosa revoca del contratto per la minoranza sono ormai una questione di moralità. La differenza fra noi e loro è una differenza kantiana. Noi l'opposizione la facciamo per attribuire agli atti una volontà che sia comune a tutti i cittadini. Altri invece attribuiscono agli atti, casomai un interesse partigiano di maggioranza oserei dire, che è una cosa diversa. Il nostro atteggiamento Kant lo chiamava un atteggiamento morale. Non stiamo facendo una battaglia contro di loro perché non ci interessa assolutamente niente, ma noi stiamo facendo una battaglia di civiltà, di difesa e soprattutto di dar voce a quelle persone che in realtà non hanno voce, ossia ai cittadini.